Signora, perché non si fa un bel regalo? Con che cosa dice lei? Con i punti, dico io. Di che cosa dice lei? Di Gran Premio Grandi Marche? Dico io. È scritto sui prodotti. Agnesi, Saiva, Danone, Galvani, Ferrarelle, Peroni. Io scelgo queste sei grandi marche e il regalo? È là. Incredibile, i regali del Corredo Cascarè. Gran Premio Grandi Marche. Scegli il meglio, ti regali il massimo. Come l'ha detto bene.